Malviventi senza scrupoli che non guardano in faccia nessuno, nemmeno coloro di quali l'oggetto rubato ha un'importanza vitale. L'episodio, e definirlo un atto infame e riduttivo, si è verificato nella vicina Niscemi. Un ragazzo disabile di 19 anni, effetto da paraplegia plastica, alunno all'Istituto Commerciale Leonardo Da Vinci, appena accompagnato dinanzi alla propria abitazione, lascia la carrozzina sul marciapiede per poi riprenderla, dopo poche ore, al fine di svolgere le sue attività ludico-ricreative e di laboratorio presso un'associazione che si occupa di diversamente abili. La mala sorpresa, però, è dietro l'angolo. Manignote rubano la carrozzina, l'unico mezzo che permette al giovane di spostarsi quasi autonomamente per la città. Della vicenda è stato prontamente informato donna Giuseppe Caffà, insegnante della ragazzo e parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù. Il sacerdote non le manda a dire. Sì, è un fatto increscioso, è un fatto che lascia il rammarico in tutti noi e il disappunto di una vicenda che è davvero dell'incredibile. Il ragazzo, come solitamente tornato da scuola all'orario di pranzo, lascia la carrozzina fuori dall'abitazione, anche perché abita in una casa abbastanza piccola e quindi la carrozzina difficilmente si può muovere dentro casa e quindi la lasciano fuori, proprio adeggiata davanti al marciapiede della porta. Questo non ha semplicemente creato sconviglia all'interno della famiglia per una questione solo economica. Il problema è che il ragazzo, senza la sua carrozzina, non può muoversi in nessun modo e quindi il giorno dopo non è potuto venire neanche a scuola. Questo ha creato davvero un grande rammarico e grande dispiacere. La carrozzina per il 19enne è la sua vita, il suo mondo. Lo studente adesso sta utilizzando una carrozzina prestata da un altro ragazzo disabile, che ne possiede due. Don Giuseppe Caffà lancia un appello. È davvero brutto dover privare un ragazzo già privato di suo, dell'abilità, della mobilità di una persona normale, già privarla di un ulteriore sacrificio, di un ulteriore sofferenza, o metterla in una condizione di maggiore sofferenza, questo è bruttissimo. Quindi non sia fatta una cosa del genere a nessuna, a prescindere dalla disabilità o meno, quando si tocca il tasso di una persona già sofferente in questo stato, credo che l'appello già lo si faccia da solo, a un richiamo all'onestà, alla cultura del rispetto e soprattutto delle disabilità.